Musica Più controlli, più gente in servizio, la richiesta della Lega Fano per contrastare gli episodi criminosi che sempre più spesso si verificano in città. Riffioritura dei tre setti di scogliere davanti all'ex pista dei go-kart a Fano, al via e lavori nelle prossime settimane per un costo totale di 1.650.000 euro. Presentato il progetto del percorso ciclopedonale che collegherà i territori di Valle Foglia e Montelabate, l'infrastruttura sarà lunga a 2,5 km e costerà circa 1 milione di euro. Doppia festa Sant'Orso e Alvallato di Fano, inaugurati nel fine settimana i nuovi campi da calcio in erba sintetica. Al via i campionati pallavolistici, la Smart System punta alla Serie A2, sabato scorso la presentazione delle squadre della Virtus Volley Fano. Su Fano TV, al via il nuovo palinsesto tra conferme e novità, tra poco in studio il presidente Gino Bartolucci. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, per la Lega la tutela dell'ordine pubblico è stato sempre un cavallo di battaglia e di fronte agli ultimi episodi che si sono verificati in città dove gruppi di giovani si sono abbandonati a violenze, atti di vandalismo e spaccio di droga, il partito locale ha costituito un presidio per chiedere più controlli. Il luogo, i giardini antistanti, la rocca malatestiana, oggetto di frequentazioni più turbolente. Massimo Fughetti. I giardini della rocca malatestiana, un luogo dove l'ordine pubblico è particolarmente a rischio, visto gli episodi che sono accaduti. Ebbene, la Lega ha istituito un box per richiamare l'attenzione su questo problema, un problema ancora contingente, emergente, questo per la città di Fano. Purtroppo assolutamente sì, nonostante in queste ultime settimane, anche grazie agli appelli, agli interventi fatti in Consiglio Comunale, ad altri incontri che stiamo proponendo nei quartieri, c'è una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine che hanno predisposto alcuni servizi. Però allo stato attuale ancora le problematiche, soprattutto qui nel centro storico, si ripetono. Vediamo che anche oggi comunque ci sono, in questo momento no, perché probabilmente si sono spostati, ma ci sono sempre degli assembramenti, si susseguono le risse, si susseguono episodi spiacevoli, anche verbali, magari a volte, che non sono nei confronti soprattutto delle donne, delle ragazze, che non sono dei veri e propri agguati, però sono sempre delle situazioni che contribuiscono a creare un clima di preoccupazione, di paura. Abbiamo voluto richiamare l'attenzione della città, dei cittadini e delle forze dell'ordine. È anche un momento per confrontarci proprio con i cittadini, perché molto spesso non trovano ascolto su queste tematiche. Che cosa proponete all'amministrazione comunale per sanare la situazione? Ma secondo noi, in questo momento sicuramente, è giusto attuare un presidio e delle attività proprie delle forze dell'ordine che è sempre maggiore. Intervenire sui servizi sociali, di coinvolgere i giovani che magari si lasciano andare a dei comportamenti non proprio consoni e quindi di creare delle occasioni. Le forze di polizia locale devono essere sicuramente incrementate, devono arrivare più persone in strada, devono essere dei servizi molto probabilmente molto più lunghi, quindi che riguardano anche gli orari serali, che purtroppo non vengono coperti. Purtroppo l'amministrazione comunale sta derubricando il problema della sicurezza a un mero controllo postumo. Secondo noi invece bisognerebbe fare prevenzione. Ciò significa potenziare l'illuminazione pubblica nei parchi, nel verde, dove chiaramente oggi questa non c'è. Si possono potenziare anche la videosorveglianza con le nuove tecnologie che prevedono anche l'eventualità che si possano installare senza tanti cablaggi, quindi spendendo anche pochi soldi e soprattutto chiediamo e ci impegneremo affinché si possa potenziare il corpo di polizia municipale perché siamo convinti che un presidio del territorio, una figura indivisa che comunque sia è presente in questi luoghi della città possa fungere anche da deterrente e quindi far sentire anche le persone molto più sicure. Un coinvolgimento forse anche dal punto di vista sociale? Ma assolutamente, è chiaro che la gioventù di oggi deve essere recuperata in modo tale che possa essere parte integrante della società, non sentirsi un margine e far sì che possano contribuire alla crescita della nostra città tutta. E nella graduatoria riguardante l'indice della criminalità delle province, resa nota questa mattina dal sole 24 ore, Pesaro Urbino ricopre la 91esima posizione. Al primo posto troviamo Milano e a seguire Rimini e Roma. Tornano a crescere, si legge sempre sul sole 24 ore, furti e rapine mentre rallenta la corsa del cybercrimine. Questo è il trend che emerge dalle statistiche sulla criminalità aggiornate al primo semestre 2023 ed estratte dalla Banca Dati Interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Per la provincia di Pesaro Urbino si registra un calo dell'8,9% rispetto al primo semestre del 2022. Sono 127 di cui 47 donne e 80 uomini, le persone che nel mese di agosto hanno beneficiato della mensa a sostengo, organizzata dalla Caritas a Diocesana al centro pastorale di Fano. Rispetto al totale di ospiti, per lo più over 45, in 50 hanno la cittadinanza italiana. Nei 30 giorni di mensa sono stati serviti o consegnati 4.506 pasti, circa 150 al giorno. Quasi 900 in più rispetto al 2022. Invece i volontari che si sono alternati nel servizio sono stati 102, con una presenza media di 19 al giorno. Valle Foglia e Montelabate hanno presentato la nuova ciclo pedonale Montecchio-Montelabattese, un percorso che si snoderà lungo la strada provinciale che collega i due territori. I dettagli nel servizio di Marco Lonigro. Presentato il progetto che vede la realizzazione di una pista ciclabile per collegare Montecchio e Montelabate, utile a mettere in sicurezza un tratto di strada caratterizzato dal traffico pesante in piena zona industriale. Il tratto interessato è quello di Via Arena, che collega il cimitero degli inglesi, lungo l'urbinate, alla rotatoria nell'ingresso di Montelabate. La ciclo pedonale è prevista al lato Pesaro e la sua realizzazione, secondo il progetto, partirà dal lato di Montelabate, nei pressi del ponte. Recupera la vecchia passarella, o l'abdagna, come la chiamavano quelli locali di una volta, che è un'opera, anche quella, importante. Salvaguarda un po' le persone più fragili, chi sono le persone anziane, i giovani, i studenti, ma anche gli operai in carne ed ossa, come diceva Antonio Gramsci, che sono così numerosi sia nel periodo quando smettono lavoro di sera, ma anche quando vanno a pranzo. Si tratta di un'infrastruttura di quasi due chilometri e mezzo e il costo per la realizzazione si aggira attorno al milione di euro. Quello che è stato realizzato è un progetto di fattibilità fatto per attingere finanziamenti da bandi della Regione Marche e del Ministero. Ha, diciamo, un percorso importante perché secondo me ci sono anche delle opportunità finanziarie, le opportunità finanziarie dalla Regione perché ha già finanziato le piste ciclopedonali, sono circa 14 chilometri in quest'area, magari c'è un buon ribasso, e anche i finanziamenti dello Stato perché favorisce la mobilità sostenibile. Quindi diciamo che adesso passiamo dalla progettazione, scriveremo una lettera a firma dei due sindaci del Presidente della Provincia per realizzare quanto prima questo progetto. Un progetto che pensa all'ambiente, commenta la sindaca di Montelabate, Cinzia Ferri, che potrà far parte di una rete ciclabile più ampia. Capite bene che l'importanza di una mobilità sostenibile, perché comunque il futuro ce lo chiede se vogliamo cercare di vivere in un ambiente sano, è importante. Per cui questa pista ciclopedonale con il recupero anche del vecchio, e questo è anche molto importante, quindi non c'è un consumo, un'ulteriore cementificazione, ma un recupero del vecchio, questo è molto interessante. sperando che i nostri giovani ne trarranno beneficio, perché noi dobbiamo guardare questo, dobbiamo guardare al futuro. Il Presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, spera che in futuro non solo si possano trovare le risorse per la realizzazione di questo tratto, ma anche di quei percorsi ciclabili che, una volta collegati, possano attraversare le vallate del Foglia e del Metauro. È una cosa importante perché in queste zone dove c'è un'alta concentrazione di attività produttive, di aziende, credo che la gente che abita in queste zone possa tranquillamente, nelle giornate belle, andare a lavorare in bicicletta. Ci guadagniamo in salute dell'ambiente e anche nella salute fisica, per cui questi progetti, secondo me, sono da perseguire. A Calcinelli di Collia e Metauro sono iniziati i lavori per la riqualificazione funzionale, energetica e sismica della palestra Cianca Merla. A seguito degli standard di sicurezza previsti nel progetto, la palestra diventerà un edificio strategico di classe 4, atto ad accogliere la comunità in caso di eventi calamitosi. Per questo intervento il Comune è riuscito ad aggiudicarsi un contributo ministeriale a fondo perduto pari a 700 mila euro rientrante nel bando sport e periferie, oltre alla possibilità di ricevere solo alla conclusione dei lavori un ulteriore contributo di circa 125 mila euro da parte del GSE per l'efficientamento energetico dell'edificio. A queste somme si deve aggiungere l'utilizzo di fondi di bilancio per circa 900 mila euro. Invece, a Valefoglia, inizieranno i lavori del primo stralcio del progetto relativo alla sistemazione idraulica e ambientale del Fosso Taccone. L'intervento è stato affidato ad un'impresa di Muccia in provincia di Macerata che si è aggiudicato ai lavori per l'importo di circa 636 mila euro. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio idraulico a cui è esposto, nel caso di alluvioni, il territorio di Montecchio. Buone notizie in arrivo anche per la parte sud di Sassonia di Fano. Infatti, nelle prossime settimane partiranno i lavori di rifioritura delle tre scogliere esistenti nella zona degli ex go-kart per un costo totale di 1 milione e 650 mila euro. La zona del bersaglio, ex pista dei go-kart, è stata più volte oggetto di dibattito da parte del Comitato alle brecce di Fano per la situazione di abbandono e di pericolo. Tra le tante battaglie c'era anche quella delle scogliere ormai inesistenti dove il mare, nel corso degli anni, ha mangiato metri e metri di spiaggia. Dopo diverso tempo, oggi il vice sindaco e assessore alla difesa della costa, Cristian Fanesi, ha annunciato l'affidamento e il via dei lavori di sistemazione delle tre scogliere già esistenti. La zona del bersaglio è una zona di grande valore oltre che storico perché c'è appunto il vecchio bersaglio, ma soprattutto ha la possibilità di una grandissima espansione anche dal punto di vista turistico, di riqualificazione di un'area molto interessante. Per fare questo è inevitabile che si passi dalla protezione della costa e i lavori che abbiamo fatto in questi anni a protezione di tutta Sassonia continueranno e abbiamo affidato recentemente, una settimana fa, il lavoro della ditta Battistini Costruzioni, che è una ditta ligure, a cui abbiamo affidato un lavoro per un totale di 1.650.000 euro, per la rifioritura delle tre scogliere che già esistono, ma che sono sommerse, e che andranno riemerse come sono state riemerse le altre in zona Sassonia e che speriamo possano dare in tempi brevi anche una nuova spiaggia a libera fruizione dei nostri concittadini. E questo è un lavoro molto importante anche dal punto di vista economico, ma ha una prospettiva che è quello di richiamare e di migliorare la situazione in quella zona. I lavori dovrebbero partire a brevissimo, il contratto è stato firmato, il cantiere è stato consegnato. Ci auguriamo che questa ditta, al pari dell'altra ditta che abbiamo avuto, svolga le proprie attività con serietà e costanze, in maniera tale da poter arrivare alla prossima stagione estiva con un ulteriore tratto di costa difeso, insieme ai tanti tratti che abbiamo difeso in questi anni e quelli che faremo, come ad esempio Metauriglia e Ponte Sasso, che speriamo di poter arrivare a definire a breve come zone turistiche importanti della nostra città. I lavori sono stati finanziati per 650 mila euro con fondi del Comune, 550 mila euro dal PNRR e 450 mila euro con fondi del MEF. Con questo ultimo intervento delle scogliere, ha concluso poi Fanesi, tutto il tratto di Sassogna dalla zona Porto fino alla foce del Metauro è stato completamente messo in sicurezza. Dopo il silenzio sull'ultimo comunicato stampa, Beatrice Morbidoni, presidente del Comitato Riapriteci le Terme di Carignano, ora sollecita chiarimenti da parte della politica. Uno dei punti da chiarire riguarda l'assegnazione dei 50 posti letto vacanti da anni che la proprietà, se auspicava, potessero far parte della clinica ortopedica che dovrebbe sorgere a Carignano. Ma la domanda, ha precisato Morbidoni, è per quale motivo, dopo l'approvazione del nuovo piano sanitario, questi posti risultano ancora incerti e non disponibili neanche per l'ospedale Santa Croce. C'è il timore, infatti, che finiscano nel nosocomio pesarese. Rinnovo l'invito a chi di dovere, ha concluso la Presidente, di dare ai cittadini ciò che chiedono risposte e spiegazioni. Torniamo a Fano, dove sabato al Vallato e domenica a Sant'Orso gli amministratori comunali hanno tagliato il nastro per i rinnovati campi da calcio in erba sintetica. C'era per noi Cristiana Guerra. È stato un fine settimana ricco di inaugurazioni, quello appena trascorso a Fano. Taglio del nastro sabato mattina per il restyling del campo da calcio Vittorio del Curto, dove dopo diversi mesi di lavori, l'area verde che consente lo svolgimento delle attività sportive con qualsiasi condizione meteo è tornata a disposizione dei ragazzi con un nuovo manto erboso, mentre domenica pomeriggio è avvenuta l'inaugurazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica nel quartiere di Sant'Orso. Presenti all'inaugurazione il sindaco Seri, l'assessore allo sport Barbara Brunori e quanti hanno lavorato alla realizzazione dell'opera. Una grande soddisfazione, siamo arrivati al termine dei lavori qui al campo del Vallato, dove l'investimento è stato di 500 mila euro. Ricordiamo che abbiamo lavorato su tutto quello che era il sottofondo di Ghiaia, rimodulandone anche la pendenza, perché naturalmente quando si smantella un vecchio sintetico va ricomposta tutto. Oltre questo abbiamo anche messo in sicurezza quello che era la parte del pubblico, con la parte invece di campo giocato e quindi costituendo un nuovo muretto e degli nuovi spazi seduti con delle panchine coperte. E naturalmente in questo impianto abbiamo anche donato delle nuove porte che sono funzionali alle attività. Alle mie spalle vedete che ci sono tanti ragazzini già in movimento che oggi sono pronti con noi a festeggiare. Anche a Sant'Orso siamo intervenuti con una riqualificazione di un campo, un campo invece che era in terra vulcanica, dove lì abbiamo dovuto fare proprio tutto un trattamento sul sottosuolo, quindi di escavazione, nello stesso tempo riempimento con quella che era la Ghiaia, con dei nuovi cordoli a perimetro e oltre questo ci siamo occupati anche di tutto quello che era un impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche, quindi che non andasse, diciamo, poi a riempire d'acqua il campo per poterlo rendere funzionale anche nel caso di cattivo tempo e quindi per renderlo agibile sotto tutte le forme. In quel caso un investimento importante, anche questo comunque va ad aggiungersi a quelli che sono degli spazi sportivi della città che per noi oggi sono fonte di benessere e quando un campo è ben tenuto ed è sicuro anche noi genitori siamo più contenti. Grande soddisfazione anche per il CSI Delfino che gestisce da sempre il campo da calcio. Oggi è una giornata particolare per noi, è fondamentale per i ragazzini giocare in un manto d'erba così nuovo, sintetico per la sicurezza, per tutto. Poco distante, nella giornata di domenica, il secondo taglio del nastro a Sant'Urso dove erano presenti tanti giovani che hanno già svolto la settimana scorsa il primo allenamento nel nuovo campo sintetico. Questa è una struttura che dà lustro a tutto il quartiere e credo che sia un giusto premio per noi della società sportiva. Dopo 43 anni che emozioni si prova ad essere qui oggi? Questo è un sogno che abbiamo realizzato con molti sacrifici. Dopo 43 anni piano piano nel quartiere abbiamo costruito qualcosa che la società sportiva, se non c'era queste strutture a Sant'Urso, non c'era. Non è solo per la società sportiva ma è per il quartiere. Due giornate di festa per lo sport fanese, due strutture in cui i ragazzi imparano a far squadra e a condividere gioie ed elusioni con gli amici. È una scelta questa di andare incontro a delle esigenze delle nostre società sportive che accolgono tantissimi giovani. Queste due realtà, questa del Vallato e questa di Sant'Urso, sono due belle risposte. Mi piace anche dire che c'è stata una bella collaborazione anche con le società sportive. Oltre ad aver fatto l'intervento sul manto erboso, le società hanno copartecipato. aggiungendo altri servizi che andavano a migliorare la qualità dell'impianto sportivo. Il profumo del tartufo rende tutto straordinario. Il suo aroma esalta ogni piatto dall'uovo al gelato. Con queste parole, lo chef marchigiano Mauro Uliassi ha salutato il pubblico presente a Sant'Angelo in Vado per la cerimonia con la quale gli è stato assegnato il tartufo d'oro, il più importante riconoscimento vadese. La prima domenica della sessantesima mostra nazionale del tartufo bianco ha visto lo chef Tre Stelle Michelin raccontare la sua storia sul palco. Il premio gli è stato consegnato dal sindaco Stefano Parri, non solo per il suo valore in cucina, ma anche, ha detto il primo cittadino, per lo straordinario impegno nel creare una carriera esemplare che fa onore a tutte le marche. La sua presenza ha concluso, ha cambiato il profilo enogastronomico del territorio. Partirà alle 9.45 da Piazza 20 Settembre l'ottavo trofeo Lamberto Tonelli, previsto per domenica 15 ottobre. Il percorso, interamente chiuso al traffico, prevede la 9,5 chilometri su quattro giri competitiva e riservata ai tesserati, la non competitiva e la camminata ludico-motoria Nordic Walking di 5 chilometri aperta a tutti. Particolare attenzione verrà rivolta ai più piccoli con mini-podistiche gratuite e con medaglia ricordo. Numerosi premi riservati alle atlete e agli atleti più veloci, alle squadre più numerose e a quelle più veloci, premio Avis alla donatrice e al donatore più veloci e un pacco gara per tutti i partecipanti. Una parte del ricavato delle iscrizioni verrà devoluto in beneficenza. E sta per cominciare anche la nuova stagione dei campionati pallavolistici. Sabato scorso sono state presentate le squadre della Virtus Volley Fano. Allora sentiamo le interviste che sono state realizzate da Stefania Schiaroli. Presentazione presso il Pinobar delle squadre pallavolistiche della Virtus Volley Fano. Sponsor Smart System. Presentazione della squadra maschile di Serie 3 e delle due squadre di Serie C, maschile e femminile. Presidente, situazioni stranieri nella Serie 3. Abbiamo acquisito Peter Mikalovic, lo sloveno che ha già giocato in Italia negli anni passati, in A1 e in A2, un acquisto di straordinaria importanza, un giocatore che fa sicuramente la differenza in questo campionato. Ci aspettiamo molto e speriamo che lui sia in grado di farci raggiungere questo traguardo che noi cerchiamo con forza anche quest'anno, volendo dare continuità all'attività dell'anno scorso, alla bellissima stagione dell'anno scorso. Anche quest'anno vorremmo essere lassù in cima, sempre con costanza. Fano c'è una grande tradizione pallavolistica, la Virtus è un grande progetto. Lo scorso anno abbiamo chiuso con una bellissima stagione agonistica, è mancata la ciliegina sopra la torta, ma è comunque un grande ricordo e grande emozione. Ci si ripresenta per il nuovo appuntamento, il nuovo campionato, sempre insidioso, sempre difficile, ma con tutte le carte in regola per ambire ai massimi risultati. Quindi grande soddisfazione per la Virtus, che è l'orgoglio della città. Complimenti al suo presidente, al staff tecnico, a tutta la squadra, al nuovo coach, insomma a tutti. E soprattutto dobbiamo, il vero sforzo è che il cuore della città si faccia sentire, perché poi questa presenza diventa l'uomo in più per una squadra, quindi forza Virtus. Mattia, le emozioni per questo inizio campionato? Le emozioni sono tante, ritornare dopo un anno trascorso qua è sempre bello, vedere la squadra davanti a tutta la città, grandi emozioni ci sono per ricominciare questo nuovo anno. Le aspettative? Sono alte anche quelle, ripeto, visto l'anno scorso come è andato, replicare è difficile, ma noi vogliamo farlo e arrivare a quel sogno che ci siamo arrivati tanto così l'anno scorso. Tutti pronti per l'inizio del campionato che si preannuncia entusiasmante come da tradizione. Fanno TV! Ed ora apriamo l'album di Fanno TV per fare gli auguri a Suor Amedea Comedini che sabato scorso ha compiuto 100 anni. Per l'occasione i familiari sono andati a prenderla in Toscana, nel convento in cui risiede per portarla nella sua città natale fratterosa e festeggiarla. Ieri è stata anche ufficiata una santa messa nella frazione di Torre San Marco concelebrata da Don Egidio Bugugnoli e il parroco del Luca. Il nipote Graziano invece ha preparato alcuni fotoricordo della zia. Suor Amedea ha passato 86 anni di vita con le sorelle in convento dove ha insegnato con passione ad oltre 1000 studenti, ha 6 nipoti e 36 pronipoti e non ha mai saltato un augurio di Natale e Pasqua con una lettera a tutti i parenti. È una zia attente e premurosa detto Graziano che illumina a tutti noi la strada da percorrere. A portare i suoi auguri e quelli dell'amministrazione comunale il sindaco Alessandro Avaltroni. Questa sera chiudiamo il nostro telegiornale annunciandovi il nuovo palinsesto di Fanno TV tra conferme, novità e grandi ritorni. Al mio fianco non poteva non esserci il presidente di Fanno TV, Ugino Bartolucci, buonasera Presidente. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Con l'aiuto della grafica vi mostreremo appunto la programmazione giornaliera dei contenuti principali partendo dall'informazione. Sì, sicuramente l'informazione che è il clou di Fanno TV. Allora la rassegna stampa che va tutte le mattine alle 7. Noi alle 8 avevamo programmato per un periodo la rassegna stampa nazionale. Abbiamo pensato di ritornare anche perché la rassegna stampa nazionale vediamo sulle televisioni più importanti di ritornare con la replica alle ore 8 del mattino 8 e 5 della nostra rassegna stampa dando modo a chi non può alle 7 che magari va a lavorare alle 8 e mezza non tutti vanno a lavorare alle 8 così di poter vedere prima di partire la rassegna stampa. Mentre invece il Tg sempre alle 20 e 30 con le dovute repliche che è sempre andato il nostro Tg. E confermiamo anche la Santa Messa al mattino alle 7 e 30. il rosario prima della rassegna stampa queste cose non vanno modificate. Poi andiamo con i giorni. Al lunedì ritorna Primo Cittadino praticamente con un nuovo orario vogliamo provare adesso diciamo che noi avevamo di solito Primo Cittadino nel periodo invernale fino a prima dell'estate alle ore 21 in diretta. Il nuovo esperimento è di andare la sera alle ore 19 naturalmente questo fino a dicembre è un esperimento che vediamo se dà buoni risultati di ascolto naturalmente il buon risultato è sempre lo fa l'ascoltatore per il telespettatore perciò sperando che questo nuovo orario nel periodo invernale perché alle 19 in estate è giorno ancora è metà giornata ma in inverno quando fa notte cambia l'orario ottobre diciamo che l'orario è alle 17 notte perciò alle 19 tutti hanno smesso di lavorare perciò potrebbe essere un orario buono saremo sempre in diretta e poi il prossimo anno come accennava il Presidente lasceremo spazio al programma dedicato alle elezioni amministrative e torneremo in prima serata sì sicuramente la politica il prossimo anno ci sono le elezioni perciò occhio al voto naturalmente la trasmissione che andava lunedì alle 21 ritornerà alle 21 però adesso questi tre mesi che abbiamo di primo cittadino faremo questo esperimento di farlo alla sera alle ore 19 anche per lasciare spazio agli speciali gli approfondimenti che stanno per fortuna aumentando perché noi siccome in questi 11 mesi secondo me siamo cresciuti molti negli speciali negli approfondimenti allora siccome tutte le varie serate sono occupate non avevamo più neanche tempi per mandare in prima serata questi speciali o approfondimenti che naturalmente danno adito comunque a un certo interesse del pubblico e dei nostri sponsor passiamo al martedì sportissimo che riparte domani domani riparte sportissimo una trasmissione che noi ci credevamo e abbiamo avuto dei risultati ottimi io quando dico risultati è il telespettatore che ci dice che incontro per strada nel dire finalmente abbiamo riportato lo sport a 360 gradi perché quello che è di bello secondo me di questa trasmissione è che noi siamo partiti stiamo portando tutti gli sport è vero che il calcio la farà sempre un po' da padrone la pallavolo che noi abbiamo una squadra la Virtus che è una squadra che sta facendo l'anno scorso abbiamo sfiorato la promozione per pochissimo sperando che quest'anno sia l'anno quello buono e daremo molto spazio a questi due sport però quando parliamo di frisbee parliamo di bocce parliamo di tennis tavolo parliamo di rugby parliamo di tutti questi sport la gente apprezza perché guardiamo lo sport come si dovrebbe guardare perché è vero che il calcio però qualcosa io toglierei il calcio per dare quegli sport che comunque sono di interesse nazionale anche perché abbiamo decine e decine di associazioni sportive anche nel nostro comune non solo nel territorio sono tante poi mercoledì altra serata dedicata a speciali approfondimenti giovedì grande ritorno è giovedì ritorno guarda chi c'è questa è una trasmissione di Nicola Zarri naturalmente che andremo a riproporre dopo un paio d'anni naturalmente che si era fermata perciò tutti i giovedì guarda chi c'è con la trasmissione come dicevo di Nicola Zarri e poi venerdì proseguiamo con Eco più Eco esatto adesso abbiamo questo bel progetto Eco più Eco con l'università degli studi Bodi Urbino e la Confindustria che sono sei puntate che sono partite venerdì scorso naturalmente perciò per un mese e mezzo dove si parla di energie rinnovabili che è il momento si parla sempre di qualcosa di rinnovabile in questi anni che dovremo migliorare perciò ecco trasmissioni importanti che hanno un certo seguito perché la gente è curiosa di sapere quali sono le nuove energie elettrico chi più ne ha più ne metta rifiuti a 360 gradi parliamo di questo passiamo al fine settimana il sabato sempre l'orario il rosario alle 21 da Loreto naturalmente questo è un orario che va mantenuto perciò il sabato per chi è amante molto cattolico perché noi di questa televisione che ho avuto io non immaginavo siccome è l'unica televisione marchigiana cattolica dove si trasmette cioè nelle marche no le tv locali sono tante sono 7, 8 adesso non ricordo bene o forse anche 10 però l'unica televisione che trasmette sia la messa sia il rosario e fanno tv allora molte rimostranze telefonate da Loreto naturalmente dove mi dicono guarda che da noi qua giù fanno tv siete molti seguiti perché chi è amante della messa chi è amante del rosario naturalmente vi guarda e poi c'è un fattore che chi quel numero 19 lo fa una volta poi lo rifà automaticamente io ho avuto i tifosi del Napoli che abbiamo fatto a tre punti in una festa del Napoli quando vince lo scodetto e molti di quegli amici di carattere di tifosi napoletani mi dicono noi non sopravamo manco di fanno tv abbiamo visto ma sai a parte la loro trasmissione l'importanza del locale del telegiornale abbiamo visto che fate un bel telegiornale ecco per capire magari certa gente che è a Fano da qualche anno qualcuno da qualche mese che era per lavoro però ecco il fattore di quando il cervellino memorizza un numero naturalmente magari lo vai a rifare perché magari poche volte se eri interessato questo numero e poi c'è tutto qua poi la domenica la domenica ritorneremo come io lo chiamo il forte perché io sono amante a me piace parlare più in dialetto che in italiano perciò il dialettale e torna e torna le commedie dialettali tutte le domeniche alle 21 partiremo con le commedie dialettali e poi gli appuntamenti soliti che erano la storia di Fano TV la ginnastica per gli anziani la mattina alle 10 la sera alle 16 non va ad orare più o meno questo è l'orario che va poi abbiamo fatto questo nuovo programma musicale Fano TV non aveva nel suo valincesto musica siamo partiti con Mr. Botter questo programma che va alle 13 alle 19 con delle orchestre musicali per gli amanti del liscio naturalmente perché c'è tanta gente che è amante del liscio e sono tanti abbiamo visto che ha un buon seguito anche quella trasmissione musicale poi per finire a fine anno da fine novembre Babbo Natale per i bambini diciamo naturalmente abbiamo in progetto anche altro per i bambini però Babbo Natale che abbiamo visto l'anno scorso molto seguito a noi è da poco che siamo qua perciò per me è tutto nuovo naturalmente io che non vengo da questo mondo perciò non mi chiamate editore perché non sono editore sono tutt'altro però mi sto facendo una bella esperienza anche in questo settore non avendo uno storico però ecco vediamo che abbiamo messo in piedi un bel palinsesto se posso permettermi noi come editori il mio gruppo di nove persone siamo soddisfatti del lavoro vostro poi dei ragazzi naturalmente perché io continuo a dire che la televisione non è né Bartolucci Gino né i suoi otto soci ma è chi lavora e tanti ragazzi bravi che abbiamo qui noi non a caso abbiamo quando ci siamo assunti questo onore onore praticamente siamo partiti perché c'era una squadra dietro che era ben preparata cominciando dalla direttrice ma qui naturalmente tutti i ragazzi che stanno lavorando proprio sentono nel cuore sentono nel cuore perché naturalmente io continuo a dire se la televisione è seguita se in giro parlano bene parlano bene di voi perché siete voi perché io nella mia storia ho detto sempre che la differenza la fa a chi lavora è vero che ci vuole una buona direzione però io dico se non c'è la manovolanza chiamiamolo manovolanza i ragazzi non vai da nessuna parte Presidente grazie mille grazie a voi chiudiamo il telegiornale questa sera annunciandovi ciò che andrà in onda tra poco le previsioni del tempo e poi uno speciale realizzato alla Casa della Salute di Calcinelli di Cogli al Metauro sull'inaugurazione della nuova ambulanza buona serata su Fano TV grazie a tutti